Sempre per questioni di soldi ma su un altro fronte caldo, quello del rapporto con le banche perché per uno scoperto di poco superiore a 1000 euro sul conto corrente una famiglia residente nel veneziano rischia di vedersi mettere all'asta la casa. La banca replica di non essere mai stata interpellata direttamente. Vediamo. La banca, il pignoramento l'ha prospettato subito, la cassa di risparmio di Padovero Vigo? Sì, 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 sì. Da lì a poco l'ha prospettato subito. Per 1100 euro? Sì, sì, sì. Non verrà più lunedì l'architetto a Vigo Novo per fare la stima della casa dove vive insieme alla famiglia. Con un comunicato del tardo pomeriggio la cassa di risparmio del Veneto, gruppo intesa San Paolo, si dice disponibile a risolvere la situazione. Si è trattato, spiega la direzione, di una procedura amministrativa che prevede degli automatismi nel recupero crediti. Niente esecuzione del pignoramento dell'alloggio. Alla signora Francesca è sembrato pazzesco che la banca, allora cassa di risparmio di Padovero Vigo, potesse portarglielo via per 1120 euro di scoperto iniziare sul conto. Si è aggrappata a feder contribuenti, sette mesi di rifiuti anche davanti alla denuncia pubblica del caso sotto la sede padovana. Il presidente nazionale, Marco Paccagnella. Parlano solo con documenti e con i loro avvocati. I 1100 euro arrivano a 5.250, dei quali io ne pago 4.250. La banca non è contenta, non gli basta. A novembre del 2010 ne vogliono altri 2.500. Frattanto Francesca finisce in mobilità e c'è il mutuo sulla casa con un altro istituto. Un correntista attanegliato in questa maniera non è accettabile. Poi in giornata il comunicato della cassa di risparmio del Veneto. Il caso è chiuso.